Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi faccio un video un po' insolito perché avete visto sempre me da solo nei video, nei tutorial o comunque video dimostrativi. Oggi invece ho due persone qui di fianco a me, Pasquale Deanna e Martina Deanna. Farò parlare solo loro perché mi sembra giusto che, insomma, possano esprimere la loro esperienza e farsi conoscere per, credo sia la prima volta, che si faccia un video insieme. Assolutamente sì. Ok. Allora, passo il microfono a Pasquale. Pasquale, prego. Buongiorno a tutti. Per me è davvero il primo filmato insieme. Mi fa piacere perché intanto per esprimere la gratitudine anche a Francesco che si sta prodigando in questo nuovo per noi, il nuovo approccio al web e alla formazione, al nuovo tipo di formazione e a lobbyistica. Mi fa tanto piacere perché circa 26 anni fa apri il primo centro tecnico, apri che sembra un assumersi un merito, ma in effetti mi approcciavo da qualche anno, circa 30 anni fa, mi approcciavo alla vendita in carrozzeria di prodotti vernicianti e quindi ritenne opportuno prima formarmi in quel quinquennio e poi quale soluzione migliore è quella di poter formare a mia volta le carrozzerie avendo un centro tecnico e quindi una sala dimostrativa che poteva darmi la possibilità di introdurre già tecnologie nuove che andavano dalla carteggiatura alla finitura del prodotto sino alla lucidatura che erano estremamente innovative. Si partiva da carteggiare con l'acqua, chi è vecchio quanto me se lo ricorderà, a carteggiatura secco, quindi innovazione tecnologica estrema. Si passava al prodotto verniciante all'acqua, quindi prodotti che cambiavano fortemente l'approccio tecnico all'utilizzo dei sistemi di finitura, quindi di lucidatura e quello che riguardava la finitura della macchina. Tutto questo è durato 25 anni e adesso è l'ora di passare il testimone a mia figlia che incredibilmente ha voluto continuare in questo strano lavoro, probabilmente si è innamorata dal fatto che lei girava nel centro tecnico che era poco più che bambina, veramente bambina. Alto un metro, anche meno di un metro, anche meno di un metro. Niente, adesso davvero è un passaggio di testimone. Questo nuovo centro tecnico che stiamo facendo ha ovviamente... Quindi stiamo anche ufficializzando attraverso questo video... Un passaggio, un passaggio di testimone. Sì, sì, il vecchio va in pensione. Il vecchio va in pensione. Il vecchio va in pensione. Prego Martina. Come anticipava, innanzitutto buongiorno a tutti. Come anticipava mio padre, c'è l'apertura di questo nuovo centro tecnico, ma ancor più da un anno a questa parte con Francesco abbiamo intrapreso un percorso, una sfida perché abbiamo sempre immaginato o pensato un approccio al web per quanto riguarda la vendita di prodotti altamente professionali e con Francesco, proprio durante il periodo della pandemia, cavalcando appunto quelle che erano un po' i disagi, ma un po' le finestre che si aprivano durante quel periodo, abbiamo deciso appunto di aprire il nostro sito e-commerce, quindi Green Soul Shop. Non nascondo, incontrando inizialmente numerose difficoltà perché per noi era un mercato mai vissuto, essendoci sempre rivolti direttamente in carrozzeria o negli autolavaggi o nelle officine, nei multiservice o nelle concessionarie. quindi si apriva un mondo e un interlocutore che era completamente diverso dal nostro solito in quanto il nostro approccio è sempre stato puramente tecnico, quindi di sostegno al professionista che doveva utilizzare i nostri prodotti e doveva appunto conoscere pregi e difetti di ogni singolo articolo acquistato. Abbiamo cercato di riproporre appunto questo nostro modo di fare, ereditato appunto da mio padre che come diceva ha sempre mirato alla formazione tecnica, abbiamo cercato di riproporre questo genere di approccio sul web grazie anche a Francesco che si è messo in gioco, venendo da un settore completamente differente ma riuscendo a capire e a far sue tutte le informazioni che sono state trasmesse durante appunto tutti i dialoghi e la formazione appunto fatta in sede. Perfetto dai penso di, anzi pensiamo perché sono abituato a stare da solo nel video di aver detto, non dico tutto ma almeno l'essenziale una piccola parte ci saranno sicuramente delle cose nuove a partire da settembre ah beh, decisamente abbiamo già ampiamente dimostrato quello che stiamo facendo giù con il centro tecnico ci saranno tante altre novità, ne stiamo discutendo in questi giorni con Martina Pasquale e niente ragazzi, con questo video insomma forse gli dobbiamo lasciare un po' di sorpresa ancora e di aspettative sarà un centro tecnico ma con una visione decisamente più ampia di quella che è il centro tecnico di formazione tradizionale avremo una grande collaborazione con enti importanti uno dei quali è CNA che ci affiancherà in questa struttura di formazione ma avremo anche specializzazioni completamente diverse da quelle che erano le tradizionali della carrozzeria anche il centro tecnico avrà una parte strutturale completamente diversa da quella tradizionale quindi sicuramente da questo video avete capito che chi è Green Soul, chi c'è dietro Green Soul e qual è il nostro progetto il video termina qui quindi nei prossimi comunicheremo le novità assolutamente un pezzo per volta un pezzo per volta però ciao a tutti, a presto ciao ciao